Quando il cielo è terso, vicino a me ti penso Bide uno Ciao, Kata Lei è Merrin È un'amica Mi dispiace per mio papà Sì Ha detto che non ti avrei rivisto Tu che ci fai qui? Kata Tuo padre ha rubato una cosa molto importante Gli chiederemo di darcela indietro Puoi accompagnarci da lui? Non ci sarà nessuno Scusa cosa pensava di fare C'è Bode pensava di vivere con sua figlia qui Da Soin 2 su un'intero pianeta Ben costruito Sembra È bello Esteticamente mi piace Questo tempio Ad esempio Kata come avete fatto? Non è stato facile Non avresti dovuto seguirci! Papà, fermo! Sta indietro, Kata! Solo così posso tenerti al sicuro! Sarà al sicuro Lo prometto, Bode Ma ascoltami bene È finita Getta via le armi Questo pianeta sarà un rifugio per chi è perseguitato dall'impero Compresa Kata E te Ma devi arrenderti Adesso Non mi sembra un... Cioè voglio dire Vai fuori, Kata Perché? Ti prego, ascoltali! Sono io a decidere cosa è meglio per la mia famiglia Vabbè, ma è fuori di testa, scusate Cioè, buh Non ha senso Avrai cedere! Figuro che sarà come da ganguera Figuro che sarà come da ganguera Distrailo Io attaccherò da ganguera Ha fatto male Aiutami Qui? E già... ooo... e già aspetta no quando mi interrompo da questa parte amico aia e beh sembra bello tosto se è il boss finale se ci proviamo ovviamente tutto buio veramente qui ah eh ma dai ma dovevo morire per vedere questo scusa eh forse dopo la decisione è definitiva maestro rancisis ti prego lui vuole combattere ammirevole ma non metterebbe a repentaglio solo la sua vita le navi stanno partendo non c'è tempo vi suggerisco di venire con noi ultima supplica di fronte all'imminente abbandono del pianeta che hanno lottato per raggiungere da gangera e santari kree fanno un ultimo accorato appello al consiglio dei jedi che non hanno ascoltato forse contro di lui ma poi vediamo ma tim che potremmo Aia No mi ha preso Lanciane uno BD Aiutami BD Conosco le tue basse Da questa parte abito Ah si è colpito da solo E allora Sta cosa dei Filmati effettivamente è figa Però Se lo rivivi dopo un po' di volte Che muori Diventa un po' falloso Ah guarda lì Aspetta No Fammi prendere Ok Eh da ancora No ancora no Basta madonna Non lo rifà ripetizione L'attacco imparabile Hai finito Ma è una propria azione in debita No basta Oh Mizziano Ma fai qualcos'altro Mizziano Eh ciao Non riesco ad avvicinarmi Vai vieni Ok Mmm Ma forse doveva andare così Ecco No stavo pensando E provo un'altra volta Ma forse contro di lui E' meglio Due spade Siccome è da ganghiera Piuttosto che la doppia lama Vediamo Perché almeno con la mossa E posso Avere la vita Un pochino più facile Sì ma comunque Il suo ragionamento Non ha senso E' fuori di testa Fim Sei pronto L'ha fatto male Sono qui Dovrai cedere Eh ma attaccalo ancora C'è tu Merrin Ah vabbè Niente Adesso finchè non lo imparo Prepariamoci a combattere Non vuoi Tutto a posto Cederai Aspetto te Curami Distrailo Io attaccherò dall'ombra Aiuto Aiuto Sei Marta Non vuoi Ah 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 dammi uno sim scappa sta lontano da kata aiuto team ehi amico avanti ehi viti 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 d'accordo e quando l'impero arriverà riuscirai a proteggere mia figlia perdonami io ci ho provato oh papà stai indietro ehi viti ehi viti beh diciamo che ci ha forzato la mano cioè è stata dura è stata durissima lo scontro con Bode tant'è che ho dovuto mettere la modalità prestazioni per avere i 60 fps perché sennò non riuscivo non riuscivo a stargli dietro a quello lì come ti senti meglio grazie bene dobbiamo parlare ero poco più grande di te quando persi la mia famiglia per molti anni mi chiusi nel dolore non volevo sentirmi meglio perché ero convinta che quella sofferenza fosse l'unica cosa che ancora mi legava a loro ma mi sbagliavo e un giorno e un giorno incontrai un'altra persona che aveva perso la famiglia insieme trovammo un modo per sopravvivere questo dolore è tuo fa parte di te mizzi è forte e caldo quando la mamma è morta papà è cambiato tanto e anch'io credo si ma questo non deve definirti e non devi lasciare che ti consumi ma cosa è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah ok, dicevo, va via in modo strano, ha accelerato il tempo, ok. Bu, ho detto. Madonna, quanto tempo è rimasto lì così. Mi hai salvato la vita su Bracca. Mi hai lasciato andare per la mia strada, quando ne avevo bisogno. Mi hai insegnato cosa significa essere un Jedi. Ma ora non ci sei più. Continueremo il tuo lavoro, Sir. Costruiremo qualcosa che sopravvivrà all'impero, te lo prometto, davvero. Ma ho paura. Mi sono quasi perso. Non so se sono pronto. Non so se sono pronto per ciò che mi aspetta. po. No. No. Grazie a tutti Grazie a tutti A cata forse Ma ha lasciato poi lì la spada laser È da tanto che non guardavo la spada Andavo al banco da lavoro Perciò sì, doveva essere la nostra spada laser E mi sa che finisce così Esatto Allora Che dire Sicuramente Non un brutto gioco Però A livello ovviamente personale Anche per lo più In generale Quando valuto un gioco Non facendo appunto il lavoro Di un giornalista O comunque Sì Qualcuno insomma che scrive Di videogiochi I miei pareri Ovviamente Per lo più Sono Personali E Anche se ha Dei lati positivi Per il mio gusto I lati negativi Secondo me Superano I positivi In questo caso Non è un gioco malvagio Sicuramente La parte del combattimento Quindi Del gameplay E quella che mi ha trainato di più Non è fatto male Anzi Dà anche certe soddisfazioni Anche il fatto di Insomma Provare diversi stili Eccetera Tra tutti Quello che mi è piaciuto di più Che poi è quello che Abbiamo praticamente più usato A parte Necessità È quello della Doppia lama Però Ci sono molte cose Che Non mi sono garbate Più di tanto Premettendo Che Come ho detto All'inizio All'inizio di questa serie Non sono un fan Ecco Della saga di Star Wars Ma in generale Generale Di qualsiasi opera Io Qualsiasi opera Io tratto Comunque qualsiasi opera Io In un certo senso Anche vivo Comunque guardo Che sia film Serie tv Mi posso Sì appassionare Ma non ne diventerò Mai fan E quindi Fan accanito Che difenda Spada tratta La sua opera Perché comunque Ogni cosa Non è perfetta Insomma Tutte le cose Hanno i pro E i contro Poi sono quelle che I pro Sono maggiori Anche di gran lunga In altre Il contrario Insomma Avete capito Quindi io Comunque di base Star Wars Sì Come ho detto In più occasioni Inizio serie A me piace Come opera Non mi è mai dispiaciuta Io però appunto Mi sono limitato A guardare film Più che altro Ho visto proprio Di recente Insomma Un paio No anche Tre E vabbè Quelle che sono Serie tv Tra cui Ecco The Mandalorian Proprio È la serie Che sicuramente Mi è piaciuta Di più Anche se Deve essere Forse la prima Che fanno Riguardo Star Wars In ordine Di cronologico Poi Non lo so Però The Mandalorian L'ho guardato Con piacere Da inizio Alla fine Mi ha Catturato Parecchio Lo stesso Anche per Il libro Di Boba Fett Un po' O meno Invece Per Ahsoka Mi ha Catturato Di meno Un po' A tratti Anche un po' Noiosa Tranne Insomma Qualche punto Uno in particolare Che mi è piaciuto Molto Quello di Di Darth Vader Però vabbè Non Non Approfondisco Nel caso Qualcuno Non l'abbia Ancora vista So che poi Ho fatto Anche Andor Che però Non ho visto Poi Neanche a farlo apposta Ho iniziato a pubblicare Questa serie Questo gioco Quasi in concomitanza Con l'inizio Di La seguace Insomma The Acolite Mi pare Si pronunci così Che però Attualmente Non ho ancora visto Perché attualmente Non è ancora Ufficialmente uscita Perché Sì Questa serie Sono riuscito A registrarla Prima Della sua pubblicazione Tutta Quindi E l'ho fatto Prima Del 6 Di Giugno O il 5 Adesso Non mi ricordo Se esce il 5 O il 6 E non l'ho vista Ovviamente Non so se La guarderò Magari sì Magari no Dipende A come mi gira Quindi vabbè Tutto questo Per dire che sì Insomma Stavolta mi sembra piaciuto Ma non ne sono Un conoscitore Approfondito Come ho già Detto In più occasioni Quindi Fumetti Non ne ho letti Nessuno Altre opere Secondarie O che ne so Serie animate Di animazione Cosa che c'è The Clone Wars Non ho visto nulla Se non qualche scena Qua e là Su Youtube È capitato Quindi non essendo Così fan Così appassionato Cioè magari I difetti Li vedo certamente Di più E per quanto riguarda Il combattimento Giocato A difficoltà Massima E Non è ben bilanciato Secondo me No Come abbiamo potuto Vedere Succede che magari Dei nemici Minori Molto minori Anche Animaletti Del cavolo Magari ti sciottano Inspiegabilmente Al di là Che vabbè Poi magari hanno Il cranio duro Eccetera Vabbè Non sto a guardare Il realismo Così Però ti sciottano E poi magari Il boss Che avrebbe più motivo Di sciottarti Magari non Con tutti gli attacchi Ovviamente Ce n'è uno O al massimo due Che ti sciottano Che ha più senso Magari non accade Per esempio Bode è stato Difficilissimo Faceva Sì Parecchi danni Però È un boss Anzi anche Il boss finale Diciamo che magari Ti uccideva In tre colpi All'incirca Poi Dipendeva dal colpo E poi magari L'animaletto Schifoso O insignificante Ti sciottano Ti uccide in un colpo Solo Non ha senso Non ha palesemente senso E non è così Che si diciamo Crea la difficoltà Magari La difficoltà Si crea Preferisco Anzi Che si crea Più che col danno Che comunque Ha il suo peso Ma anche con le strategie Dell'avversario Che non tutti i giochi Hanno Mi rendo conto Che insomma L'intelligenza artificiale Non sempre Ben sviluppata Ecco In generale Poi c'è il gioco Dove sviluppata di più Quello di meno Qui Non si vedeva Che non si puntava Alle Insomma Alle movenze O alle tecniche Magari Dell'avversario Ma più al danno Per questo Anche magari Così sbilanciato La trama Non Non mi è piaciuta Granché A dire la verità Anche perché Trovo delle cose Che Non hanno senso Per me Che io sono Comunque uno Che in generale È veramente Di bocca buona Quindi diciamo Si digerisce Praticamente Tutto Anche cose Magari Assurde Però diceva Vabbè Che se ne frega È un film Però Qua ci sono Veramente cose Cioè Senza senso Prima tra tutte Il comportamento Di bode Che Allora Io Avevo capito Non dico subito 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 Ma dopo un po' Che lo guardavo Che c'avevo a che fare Avevo questo sentore Di traiettore Anche questa è una cosa Se vogliamo Già vista Anche e soprattutto Forse nell'universo Di Star Wars Quindi Non è che abbiano Creato un grande Colpo di scena Col Col tradimento Di bode Secondo me Ma poi Avesse tradito Anche per motivi Logici Comunque Giusti per lui Ma in realtà No Perché se ci pensi Se si pensa Lui Ok In primis La figlia E su questo Lo posso anche capire Anche se non ho figli Però Appunto Perché in primis La figlia Se lui seguiva Cal Cal voleva solo Creare Anzi Sì Creare Proseguire Insomma Quello che ha fatto Seer Col cammino segreto Quindi trasferire Tutta la base Su Tanalor E lui poteva Prendersi Un appezzamento Di terreno Si costruiva La sua casetta Magari non gli ne fregava Niente del cammino segreto E si faceva I fatti suoi Con sua figlia Ed era al sicuro Perché comunque Tanalor È Ha uno spazio Inviolabile Non si può violare Se non tramite Appunto La bussola Che poi non si è capito Come la bussola Aiuti il viaggio Magari Apri un varco O c'è Magari Per logica Essendo appunto Una bussola Magari Che c'è un varco Tra quella Materia Strana Strana È un passaggio Sicuro Ecco Invece noi L'abbiamo Con Cal L'abbiamo praticamente Bucato Questo passaggio Ed è temporaneo Perciò Se seguiva Cal Basta Cioè era posto Sembra che come Infatti io volevo Aspettare appunto Fino all'ultimo Ho detto Boh Magari E invece poi alla fine è morto Quindi Magari Che ne so Cal Gli ha fatto qualcosa Comunque Cioè loro in realtà Non si conoscevano Prima di Gigi Survivor E questo era chiaro Però Che ne so Magari Cal L'ha incontrato Sotto mentite spoglie In un passato Remoto Gli ha fatto un danno E quindi Cioè Anche durante il combattimento Con la boss fight finale Sembrava proprio Che ce l'avesse con Cal Ma odio puro Cioè Ma io Boh Ma che cosa gli ho fatto Anzi L'abbiamo sempre aiutato Quindi Non capisco Cioè Se non faceva nulla Aveva tutto Cioè Era vivo Prima di tutto Poteva Crescere Sua figlia E starsene tranquillo Su un pianeta Che l'impero Non può raggiungere Boh Magari sono io Che non ho capito qualcosa Non so Può essere Però Così a me È sembrato E mi sembra una cosa Senza senso Come se Gli sceneggiatori Hanno voluto A tutti i costi Inserire Un traditore Per forza Però poi Non sapevano Non ho mai capito bene Che Che tipo di tradimento Da fargli fare Non so Ah sì Parlando E E quindi Boh Sta cosa Non ha senso E quindi Mi fa storcere Che sì Un po' Un bel po' Anzi Il naso Poi Vabbè Da Ganguera L'abbiamo capito Un po' Di più Perché ci teneva A Tannan Insomma Ci è arrivato Lui per primo È diventata un po' La sua casa Poi avrà Addestrato Se non ho capito male I Gedean Quando hanno costruito Il Tempio Quindi Vabbè Si era affezionato Insomma Affezionato forte Al pianeta Non ho ben capito Però la storia Appunto Dei 200 anni Di Di distacco Anche lì Il comportamento Di Sant'Aricri Ok L'amore È tutto Però Gli tagli un braccio Poi cambi idea Lo vuoi salvare Però Lo metti In una vasca In modo Che Stia lì 200 anni Sapendo che però Tu non ci sarai più Cioè Boh Non potevi ucciderlo E basta Voglio dire O Non lo so Imprigionarlo Normalmente O Abbiamo Una cosa che Appunto Una specie Che non si è Penso mai vista Non lo so Appunto Come ho detto I fumetti Non li ho letti Il Gendai Ecco Su di lui C'è comunque Una minima spiegazione Ce l'hanno data Su perché Vive tanto Eccetera Se non ricordo male È proprio una razza così Che si rigenera Anche se giustamente Ha il suo punto debole Poi Mi sembrava un guerriero Cioè Mi sembrava uno Che Si ha fatto il cattivo Ma Comunque Non era cattivo Era legato Dal giuramento Con Dagan Quindi Mi sembra Dopotutto Forse Un guerriero onore Vabbè Meglio così E Ma A parte Queste cose Che comunque Mi hanno fatto Storcere il naso Ma In particolare Quella di Bode Ma La trama Comunque In generale Contame Tutto il resto Non è che mi abbia Cioè Passando soprattutto Quello che mi ha fatto Storcere il naso Non è che mi abbia Coinvolto Più di tanto Non Non lo so Peccato che appunto Io il primo Proprio non me lo ricordo Più Ma proprio Zero O quasi Zero Quindi non riesco a fare Un confronto Sincere Anche se l'ho giocato Mi sono ricordato Appunto Giocando Che c'era quella Storia Dell'Holocron Con La lista Di bambini Sensibili Alla forza Allora forse Ma forse lì Forse era un po' meglio Però ma infatti Io il primo Anche se me lo sono Dimenticato Non mi pare Ad avere Un ricordo Brutto Comunque Magari Un ricordo Neutro Ecco Invece con questo Avrò sicuramente Anche se me lo Dimenticherò Ma avrò un ricordo Brutto Sì infatti Io mi sa che Giochi di Star Wars A meno che Non uscirà Qualcosa di Veramente Epocale Eccetera Tipo Adesso Anni fa Non mi ricordo Quando Avevano Fatto vedere Un teaser Di Di remake Di Cotor Che io non ho mai giocato Knights of the Old Republic Ecco Quello Beh Per me Forse è un po' troppo Vecchio Quindi Non credo che lo recupero mai Però se fanno un remake È fatto come si deve Quello deve essere Proprio credo Un gioco di ruolo Forse anche Open War Non lo so Perché non mi sono mai Interessato Sinceramente Forse quello Potrebbe valerne la pena Ma Se creeranno qualcosa Di simile a questo Adesso non so neanche Come sia Star Wars Outlaws Ma L'ha creato Ubisoft E già che l'ha creato Ubisoft Ho qualche riserva È ancora peggio Che di Electronic Arts Per questo Io con Ubisoft Non ho Un buon rapporto Infatti se noterete Sul canale Anche se inizialmente Avevo giocato Avevo iniziato a giocare Appunto Un po' Di suoi giochi Più che altro Gli Assassin's Creed Poi piano a mano Che è passato il tempo Sempre lasciato a parte O comunque Tralasciato Giochi Ubisoft Perché non lo so È una compagnia Che Da quello che fa Eccetera Non è che apprezzo Più di tanto Anche solo Assassin's Creed Non chiudere mai Il brand Che per me Andrebbe chiuso E alla grande Direi Però Gli porta in casa Un sacco di soldi Le idee Magari Non è che Non le hanno E che magari Non vogliono rischiare Tutto qua Comunque Lasciando perdere Sto discorso Che Non c'entra Con Star Wars Ovviamente Come ho detto Tutto parere Personale Poi qualcuno Può dire la sua Può non essere D'accordo Non c'è nessun problema Tanto Parere personale E Poi Cos'altro Non ho garbato E non ho garbato Molto Le mappe In generale O meglio Avrei preferito Anziché creare Questa specie Di Semi Open world Con vie Di qua di là Che ci sta Però Mi devi Mi devi Far sì Che Io posso andare Dove voglio Fin da subito O meglio Nelle Le zone Che attraverso Mi devi dare la possibilità Di esplorarle Tutte Al primo colpo O quasi Ecco Perché Io Ma questo Una cosa Mia Sono fatto così Cioè a me piace Scandagliare Sì Zona per zona Ma poi basta Poi una volta Fatta Non ci voglio più Tornare Se possibile Ovviamente Invece qui C'è molto presente Sta cosa E infatti Poi come avete visto Io Cioè Ho esplorato Comunque parecchio Comunque tutti i pianeti Almeno sopra Il 75% Erano Però poi Non sono tornato Indietro Ma no Per cosa Poi Cioè Sì Abbiamo rinunciato A dei benefici Ecco magari I benefici Si potevano Darmi una mano Poi non so Che tipo di benefici C'erano Sparsi per i vari mondi Ma a parte quelli Abbiamo solo rinunciato A roba estetica Che per quanto Dia soddisfazione No Aprire le casse Non so È una cosa Che mi ha sempre Dato soddisfazione Anche nel primo Mi ricordo Mi faceva piacere Trovare comunque qualcosa Anche se Roba estetica Però ritornarci Per quello no Cioè Va bene tutto E E quindi Io l'avrei fatto Un po' come Forse Il primo Era più chiuso Se non sbaglio Avrei fatto magari Mappe Medio piccole Però anche Visitare diversi pianeti Perché secondo me Uno dei punti di forza Che potrebbe essere Star Wars Come altri giochi Ambientati comunque Nello spazio È visitare diversi pianeti E cavolo Vedere diversi biomi Certo È più faticoso Magari crearne diversi Bisogna avere anche Una certa Fantasia Ovviamente Ovviamente Non so Mi avrebbe fatto più piacere Magari spostarmi Da una parte all'altra Della galassia O del sistema E vedere Magari Non dico 20 pianeti Però Anche 8 9 Massimo 10 Non di più Sì Alla fine Non li ho contati Comunque le location Magari saranno 6 o 7 Non lo so Il primo Non mi ricordo Però erano qualcuno C'era datomir C'era datomir C'era quel pianeta Con la giungla Poi però non mi C'era anche forse Qualche stazione spaziale Ma non mi ricordo Però Eh sì E qua Praticamente Hanno riunito Un po' Di biomi Su Kobo Poi la luna Poi la base Ah no Quella è la luna Poi sì No La base imperiale Ok Eh vabbè Tanalor Ma Tanalor L'avevo capito Che alla fine Era solo un corridoio C'erano solo vedere Così e basta Non è che dovevi fare Chissà che cosa Quindi Tanalor È un po' Come se non esistesse Tra virgolette E Più che altro Sì Kobo E Ah Jedha Più che altro Kobo e Jedha I due pianeti Poi la luna La base Però Non così tanta Varietà Per me Eh I nemici Invece c'è un grande Numero di nemici Tra creature imperiali Eccetera Quello nulla da dire Eh Di cos'altro Mi viene in mente Nient'altro Comunque il resto Va bene Cioè Musiche Eh L'andoppiato in italiano Però ciò va benissimo E basta Mi viene in mente Nient'altro Lo so Ho detto anche Un bel po' di roba Comunque E sì Si Probabilmente tra qualche mese Anche questo titolo Non me lo ricorderò più mi spiace ma non ha lasciato troppo il segno in me non so sinceramente le recensioni cosa abbiano detto io sto gioco comunque non ero molto interessato all'uscita però comunque l'avrei voluto recuperare infatti l'abbiamo recuperato visto che abbiamo giocato il primo però come ho detto se il primo era il primo quindi diciamo che il primo forse aveva anche il vantaggio che essendo appunto il primo c'era quell'effetto novità che hanno tutti i primi capitoli quindi magari certe cose non le ho notate eccetera poi appunto non mi ricordo però il fatto che proprio me lo son cancellato forse anche col primo non è che si mi era piaciuto ma non da dire giocone della madonna ecco qua ancora meno qua sicuramente ancora meno e vabbè ah è una cosa che poi infatti me la stavo anche dimenticando io avrei voluto mettere una benedetta spada laser rossa nel primo sta cosa mi era stata negata o meglio avevamo vissuto ma era un pare un sogno forse cal con la spada rossa quindi anche quello e io dico vabbè anche il gioco appunto in un certo senso dovrebbe essere canonico che io sappia quindi entrare dentro tutto l'universo di star wars ma poi alla fin fine è pur sempre un gioco quindi sarebbe stato bello secondo me visto che hanno optato per questa formula inserire magari anche un po' nascosta una missione secondaria che poi le missioni secondarie le hanno messe ma sono delle cagate almeno le abbiamo fatte un po' poi io sinceramente mi sono anche stufato di andare in giro a parlare con la gente anche quello però ci stava bene secondo me inserire appunto una missione secondaria anche segreta o comunque non di facile scoperta anche una sola cioè andavano bene anche missioni secondarie mezze cagate un po' come queste che abbiamo visto però c'era quest'unica missione secondaria particolare magari con una trama ben scritta ovviamente con alla fine non so una scelta per esempio di risparmiare uno ucciderlo per esempio dico io e se poi sceglievi appunto di ucciderlo e quindi di cedere al lato oscuro come ricompensa ti veniva dato magari il colore rosso della spada laser e l'abito che ne so non dico la Darth Vader ma semile più o meno no da comunque dal signore dei Sith secondo me sarebbe stato bello una bella aggiunta peccato che non gli è venuto in mente o magari gli è venuto in mente ma per rispettare la canonicità dell'opera niente a Kale negata la spada laser rossa ma porca ma è pur sempre un gioco che cavo cosa ve ne frega dio santo vabbè vabbè ma vediamo se si possono no non si possono saltare nessun no niente io sto premendo ma niente volevo vedere se per caso dopo c'era un filmato ah si ok si ah ecco appunto c'è qualcosa vediamo beh forse non è come ci aspettavamo ma ora questo posto è casa nostra si ma ma come uscite si hai proprio ragione però c'è ancora molto lavoro da fare dovremo contattare il cammino segreto e trovare gli anacoreti e aprire un saloon il posto è un po' inquietante ma so che sarebbe un successone adesso appartiene a te appartiene a tutti noi ecco però mi è piaciuto che comunque Cal un po' di lato oscuro l'abbia assaggiato in un certo senso che ne pensi piccola lo facciamo un tentativo sì va bene ah così mi piaci oh oh fantastico dai sarai affamata ti preparo qualcosa hai mai assaggiato le bistecche di scasso eh vedi cioè se Bode stava con noi a quest'ora adesso è insieme alla figlia quindi non capisco ah proprio viaggio completato è raggiunto la fine del tuo viaggio tuttavia la galassia può essere esplorata liberamente potrebbe esserci ancora dei segreti da scoprire nuovo viaggio più ora disponibile il menu principale tutti gli stili ed elementi estetici delle partite precedenti sanno sbloccati insieme ad alcuni nuovi benefici e colori della spada laser anche i tuoi punti di abilità verranno trasferiti in una partita oddio devo vedere che hanno messo aspetta purezza aumentata notevolmente purezza aumenta notevolmente i danni inflitti con le armi sia per gli amici che per i nemici guerriero istituisce i nemici standard con noi avversari più impegnativi no grazie estita rende casuali i tuoi oggetti estetici dopo la morte vabbè qui io aspetta scusa c'è perché segna la mantis ah esplora la galassia e basta scusa se io vado su e faccio il tavolo uso il tavolo qui partiamo amico no vedi che non sei eh sì poi alla fine appunto i mondi sono vabbè anche corusa per me come se non tra virgolette non esistesse perché l'abbiamo visto all'inizio poi basta poi c'è insomma anche tan a loro uguale il mondo finale quindi questi due per me come se non ci fossero non è che sono mappe chissà cosa da esplorare eccetera i principali sono jeda quindi uno e due kobo che ha tanti biomi eccetera che è quello più grosso poi abbiamo visto la luna quindi tre e la base imperiale quattro secondo me sono meno nel primo io non me lo ricordo porca vacca però secondo me sono meno i mondi peccato peccato perché comunque star wars e va bene scusa se io torno al menu principale mi riposo qui riposa no cosa ho premuto aspetta voglio andare nel menu esci scusa eh se io faccio nuovo viaggio più nuovi benefici lame per spada vedi che però cavolo cioè praticamente facendo un nuovo una nuova partita più ti danno la spada laser rossa ma mezza ma dammelo davanti il primo viaggio ma che cavolo ma ti pare no a parte che appunto se a uno è piaciuto il gioco ok ok ma come me magari non l'ha apprezzato al massimo non lo rigiocherà mai più cosa che infatti io farò e no disinstallare subito e niente ragazze ragazze ho parlato veramente tanto ma vabbè come sempre io vi voglio dare il mio parere poi come ho detto sono tutti pareri personali appunto uno può non essere d'accordo e mi va bene uguale tanto sono pareri miei quindi come i vostri sono pareri vostri quindi nessun problema anzi se volete esporre insomma se l'avete giocato insomma se siete d'accordo con me o no se magari avete delle spiegazioni in più scrivetemelo tranquillamente nei commenti ecco magari sono cose che io a cui io non ci sono arrivato e quindi Bode si è comporato così e così e così cosa va bene comunque in apparenza come l'ho capito io per me Bode ha fatto tutta una roba inutile anzi cioè ha ucciso pure Cordova così a caso come se gli avesse fatto qualcosa perché sì per renderlo più cattivo boh indirettamente ha ucciso anche Sir perché ha scatenato un casino le suggeda quindi boh cioè magari potevano tradendo potevano esserci morti indirette quello sì ma uccidere direttamente Cordova che gli ha fatto niente cioè oh non lo so veramente è proprio una roba che non mi va giù anche se sono di bocca buona sta cosa veramente non non mi andrà mai giù vabbè e niente ragazze ragazzi io vi ringrazio vi saluto e noi ci risentiamo alla prossima serie ciao a tutti ragazze ragazzi